Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Heroes of the Storm In questo video utilizzerò Lunara nella mappa Valle Maledetta Vi auguro buona visione Bene ragazzi ci troviamo nella Valle Maledetta Diamo subito un'occhiata alle due squadre Nel nostro team abbiamo Lunara, Varian, Chen, Tassadar Sparachiodi contro Tassadar, Reggaina, Ragnaros, Tral e Varian Molto bene quindi abbiamo finalmente a che fare con la Cerbiatta Anche se è una triade però mi piace chiamarla Cerbiatta Spero che la webcam non stia facendo troppi scherzetti però Vediamo un pochino che cosa abbiamo come abilità E che cosa può fare questo assassino a distanza Allora intanto partiamo subito dal suo tratto Che è una delle cose più fastidiose soprattutto nell'early game Allora Tossina naturale, gli attacchi base, le abilità offensie di Lunara Avvelenano i bersagli infliggendo 36 danni al secondo per 3 secondi Ogni ulteriore applicazione aumenta la durata di 3 secondi Fino a un massimo di 9 secondi Ora ho voluto un attimo leggerla per questioni che magari potevo tranquillamente dire Gli attacchi base e le abilità di Lunara Praticamente applicano del veleno Che per ogni carica Fino a un massimo di 3 Applicano questo veleno Molto fastidioso Soprattutto Varian in questo caso è andato un po' in coppa corpo Però diciamo che Arrivo ad un certo punto lo costringo già a prendere la Fonte curativa perché ha preso un bel po' di danni Diciamo che anch'io ho preso molti danni Purtroppo Lunara è molto fragile Però soprattutto all'early game magari posso provare un attimo a approfittare Per tentare di fargli quanto più danno possibile Però sicuramente quella parata Dà un bel po' di fastidio Adesso la nostra Q Bocciolo nocivo Praticamente farà un'esplosione letteralmente di Poline C'è proprio scritto così Che infliggerà danni Una mossa molto semplice Ad aria D'aria diciamo abbastanza ridotta Poi abbiamo la nostra W Che praticamente E aumentano la durata totale Del veleno di altri 3 secondi E dovrebbero allentare anche il nemico 40% Non Non del 25% Per qualche motivo stavo pensando Al 25% Questo variant Ci sta rischiando sempre di più Quindi questo significa che Oltre ad applicare magari quel veleno Che dura 9 secondi Possiamo farlo durare Fino a un massimo di 12 Se la matematica non è un'opinione La nostra è il fuoco fatuo Praticamente ci serve Solamente per avere informazioni Su una determinata parte della mappa Adesso voglio rimanere Molto molto a distanza Da Da Vanione per il momento Perché purtroppo la sua carica E la sua Q Possono crearmi Non pochi problemi Però adesso ho utilizzato la sua carica Quindi questo vuol dire Che posso essere un bel po' più aggressivo Posso rallentarlo Sperare un attimo di applicare Un altro po' di veleno Chissà se riuscirà a Creparci A livello 4 Diciamo che abbiamo un talento Prettamente Dedicato alla nostra Ed è morto Ecco qui Perfetto Questa è la cosa che molti odiano Di Lunara Che il suo veleno È davvero fastidioso Come per questo motivo La fonte curativa In quel caso Forse avrebbe potuto saparla Ma non è nemmeno detto Diciamo che Non ero proprio sicuro Al 100% Comunque Ho aumentato la velocità Di movimento del nostro fuoco fatuo E anche La visione che dà Quindi questo vuol dire Che possiamo mandare Questo fuoco fatuo Per Controllare Una determinata zona Abbiamo un tributo A top Tra l'esceso bot Quindi meglio di così Si muore Tra parentesi Lunara non utilizza Mount Praticamente Ha i suoi Stupidissimi I balzi Li chiamano stupidissimi Perché Dopo un po' Danno quasi fastidio Cioè guardarle Da un fastidio Però in pratica Abbiamo Costantemente La nostra velocità Di movimento Ha aumentato Del 20% Under Ragnaros Avversario Ha deciso Di usare Il suo tratto Cioè Moltencore Nucleo Ardente Però adesso Possiamo aumentare La durata Del veleno Su Varian E riusciamo A buttarlo giù Ora La cosa buona È che In questa squadra Abbiamo una buona Linea frontale Quindi questo vuol dire Che Lunara Diciamo Può stare un po' Più tranquillo Almeno in questo caso Cioè Io purtroppo Non mi posso buttare Lì nel mezzo Per nessun motivo Perché Diciamo che Lunara è molto Molto fragile Quindi avere Chen E Varian Non è per niente Una cosa malvagia Come l'investione Quasi quasi Sto tributo Glielo potremmo Quasi lasciare Noi stavate A furia di fare così Prima o poi Ci crepiamo Male E infatti Proviamo a focussare Un attimo Ragnaros Però ovviamente C'è anche Tassadar Che lo aiuterà Oh cavolo La meteora Arriva anche Jaina da qui sotto Quindi direi proprio Che ce ne andiamo Lasciamo perdere A questo punto Non vinciamo Questo fight E prendiamo Un pochino di exp Magari Dalle lane A questo punto Perché onestamente I nostri abestati Sono messi Molto meglio di noi Come posizione Come danno Ed eccetera eccetera Ora Voglio andare un attimo Nella parte inferiore Utilizzo il mio fuoco fatuo Per controllare Quella parte Prima che magari Qualcuno provi a farci Un gank Qui Tassadar Qui Tassadar Ovviamente diventerà Invulnerabile Per un pochino Ma Non abbastanza Adesso Andrò per vigore Il selvatico Praticamente dopo che Utilizzeremo la nostra W I nostri attacchi base Faranno un po' più danno Quindi Solitamente preferisco Applicare i tre stack Magari poi Utilizzare la W Per fare quanto più danno Possibile Ovviamente Per ora non lo uso Perché Sui mino Non è necessario Possiamo pushare Con tranquillità E come potete vedere Anche il veleno Può essere applicato Alle strutture Una cosa Super mega fastidiosa È come avere un po' La marcia di Murlock Però con gli attacchi base Se vogliamo un attimo Considerare Arriva intanto Varian qui Dalle retrovie Magari prova ad allontanarmi A quanto pare Sta andando Per una versione tank E qui La cosa migliore Che possiamo fare Con del Lunara È utilizzare Il kiting Cioè attaccare Mentre ci muoviamo Quindi Soprattutto perché Diciamo che siamo più veloci Dispetto agli altri Adesso utilizzo La mia W Quindi avremo Una potenza degli attacchi base Superiore Rispetto a prima E sicuramente Li faremo anche Molto molto danno E soprattutto Continueremo a riapplicare Quel veleno Estremamente fastidioso Adesso utilizziamo La W di nuovo Troppo Sono davvero in pericolo Qui Eh mi ha colpito Lo stesso Ah Troppo non tutto il tempo Sta nella velocità Aumentata Purtroppo Speravo un attimo Di riuscire A fare un altro Ma vabbè Non ha un gran che di importanza Perché nel frattempo Qui a top Con tranquillità Sono riuscito A prendere questo tributo E quindi mi sta Più che bene Onestamente Abbiamo tenuto Occupato i nostri Avversari qui Per un bel po' Ora In effetti si E' molto probabile Che Varian Andrà per una build Da tank Perché non è andato Per lo stordimento A livello 4 E' molto molto probabile Anche perché è l'unico Mi sa Nella squadra Avversaria Che può fare da tank Il nostro Che faremo Che faremo Cavolo E dobbiamo stare attenti Anche a questi Tizi qui Come Tral Perché sono Veramente Fastidiosi Per Lunara Come vedete Muore molto velocemente Tra l'altro E' una cosa Che ho dimenticato Di dire Della nostra E che possiamo Rispostarla Ogni 5 Secondi Quindi questo Vuol dire Che non per forza Dobbiamo aspettare Che finisca il suo Cooldown Per Comunque L'ultimate Praticamente Consiste nel fare Un balzo In questo modo Che farà Un sacco di danno E soprattutto Questa mossa Oltre che Fornisci un bel po' Di danno Può essere Estremamente utile Anche per fuggire Su certi punti di vista Perché Come avete visto Il balzo E' piuttosto interessante Uuuu Ligiaina Ho utilizzato la sua Ultimate Proviamo a dare Un pochino di supporto Al nostro CianCian Ma La cosa Per cui Mi piace Moltissimo Utilizzarla E Il fatto Che possiamo Anche chiudere Alcune distanze Oh oh Abbiamo un Ultimate Di Ragnaros Qui nella mid lane Che è molto semplice Da evitare In questo caso Perché Onestamente L'ho usata Molto presto Con un bel po' Di preavviso Anche perché E' abbastanza semplice Da evitare Se ci ripensiamo Questo trall Vuole continuare Questo sconto A questo punto Utilizziamo La nostra Ultimate La riutilizziamo Per spostarci Da quello Terremoto E per rimetterci Un attimo In posizione Purtroppo Varian qui E' andato Oh cavolo E' andato Per DPS Alla fine Onestamente Non ho ben capito Allora La sua scelta Forse per evitare Quanto possibile Danni Però Non potrà resistere Così Abbiamo Un'altra Un'altra Moltencore Da parte di Ragnaros Però adesso Non possiamo andare Ad attaccare Jaina Perché abbiamo Davvero pochi HP Your wall Non credo Che fosse Il muro Del nostro Tassata Se devo essere Sincero Non ho ben Visto lì It's not Oh oh Ora potrei essere In pericolo Devo utilizzare Un attimo La mia Ultimate Per provare A scappare Da Jaina Però Cavolo Ho utilizzato La W Per provare A rallentarla Ma non ci sono Riuscito Purtroppo La sua Q Mi ha raggiunto Ho come l'impressione Che sia andata No Non è andata Per l'estensione Quindi proprio Mi ha preso E basta Oh Loll Infatti Non era il nostro Tassata A bloccare Il nostro Varian Era Il loro Tassata Purtroppo Come potete vedere Non sono nemmeno Super bravo Con Con Lunara Diciamo che Ci devo fare Molta 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 Attenzione E sapete E sapete cosa Direi che Per quanto riguarda Il livello 13 Cioè in generale Una cosa che mi piace Molto di questo personaggio E che ci sono tantissime build Si può adattare In moltissime situazioni E questa è una cosa Che sicuramente Non è per niente Male Oh oh Avrei un'altra Ultimate Di Ragnaros Che sta provando Un attimo Eeeh Veitare un po' I miei alleati Per ora non scelgo talento Utilizzo la mia ultimate Per raggiungere facilmente Trall Per buttarlo anche giù Eeeh Qui a questo punto Voglio andare per Vantaggio sleale In pratica I danni della nostra tossina Saranno aumentati Sui bersagli Rallentati Quindi Questo vuol dire che Ad esempio Varian qui Sta prendendo un botto di danno Però non voglio comunque Andarla ad affrontare Uno contro uno Perché già conosciamo Abbastanza bene Varian Che può farci A pezzettini Ovviamente qui C'è anche la scelta Per uccisori di gigante Che può fare moltissimo Cioè in effetti Con la combinazione Poi Di vigore selvatico Che aumenta i danni Dei nostri attacchi base Diciamo che È un'ottima combinazione Soprattutto contro i tank Ora Jaina A questo punto Verrà distrutta Però siccome Diciamo che Nella squadra bestsella Non ci sono tank Veri e propri A questo punto Perché Varian è andato Per DPS In generale Poi non hanno nessuno Con tantissi HP Diciamo che uccisori di giganti Poteva essere Un pochino In più come cosa Guarda Ragnaros lì Ha utilizzato Una meteora Vivente in modo Un po' strano Non ho capito Cosa voleva fare Forse è sbagliato un po' Però Vabbè Se qualcuno Si sta chiedendo Anche perché Non hai fatto una guida Sul Ragnaros Piuttosto che Sul Lunara Beh Lunara è free In questo momento Soprattutto Ho l'impressione Ragnaros verrà Un pochino Nerfato Con la prossima Patch Ne ho l'impressione Onestamente Non voglio che fare La stessa fine Di Varian Nel senso che Ho fatto il video Su Varian Giusto C'è la guida Quando è stato Due giorni dopo C'è il mercoledì Perché io il video Lo faccio solitamente Lunedì Hanno fatto Dei cambi Alcuni numeri Come di Varian Qua comunque C'è un enorme fight Adesso mi voglio allontanare Il mio veleno Potrà continuare Lì per me Sfortunatamente Non ho altro Però siamo riusciti A prendere una tripla E quindi Siamo a posto Adesso Siccome mi piace Moltissimo La portata Negli attacchi base Andrò per lancia Di legno stellare In pratica così Avrò un 50% In più Di estesa Nei miei attacchi base Dopo aver utilizzato La W Quindi siccome Come abbiamo già visto Lunara ha qualche difficoltà Nel corpo a corpo Potremmo dire un po' così Diciamo che è meglio Stare quanto più lontani possibile Siccome abbiamo Una buona front line Possiamo Tranquillamente Attaccare i nostri avversari Da lunghe distanze Allora qui C'è questo Tassadar Che magari proviamo un attimo A infastidire Qui Utilizziamo la nostra Attimate Che ora che ci penso Ho dimenticato anche di dire Che se non sbaglio Rallenta anche Dell'80% Per un attimo Però Quell'attimo È estremamente fastidioso Ecco Tassadar proprio non Non si scrollerà Poi così tanto facilmente Di dosso a me Che lo posso inseguire Molto facilmente Qui questo Ragnaros Però dà fastidio Qui c'è Jaina Direi proprio che voglio Non voglio utilizzare l'ultimate Su Cioè la volevo utilizzare Su Jaina Però poi ho pensato Ok c'è Tral Direi che ci rischio un bel po' Hanno entrambi il veleno Ma hanno Quel mezzo HP Ok Jaina si è suicidata Letteralmente Adesso voglio usare La mia ultimate In questo caso Su Ragnaros Visto che Tral È troppo lontano Lo bodyblock un pochino E ci siamo Abbiamo preso anche Il boss di top Quindi stiamo Più che bene La situazione È interessante Per essere sincero Ho paura per la webcam Ragazzi Comunque A 12 minuti Di partita Perché Lo vedo un po' scattare Ho come l'impressione Che ci sia qualcosa Che non va Comunque adesso Dobbiamo fare un po' di attenzione Cercherò di dare fastidio A Varian Qui Più che altro So che c'è Tassadar Però in generale Ho cercato di attaccare Il primo bersaglio Possibile Per quanto mi riguarda Ok direi proprio che Ce ne andiamo Mr. Tassadar Scusate Ok ci rinuniamo un attimo Con i miei compagni di squadra Qua stiamo facendo Questo campetto di mercenari Voglio utilizzare Il fuoco fatuo Che è una cosa Che faccio Un po' poco spesso Onestamente Dovrei utilizzarla Molto più spesso Però La metto qui Da queste parti Per essere sicuro Che non arrivi In nessuna parte Questo Varian Che adesso si ritroverà Davanti a noi Però Diciamo che non è Proprio la situazione migliore Lì Tra l'altro ho provato A usare l'altit Che ha visto me Però onestamente Mi sono spostato subito E Lì Come si dice Ragnaros utilizza La sua ultimate Non so per quale motivo Però Adesso sono un pochino Nei guai Però evito L'ultimate di Jaina E quindi Direi che adesso Ce ne dobbiamo andare Da qui Perché onestamente Il fight Non è proprio L'idea migliore In questo momento Per noi E come potete vedere Per quanto all'inizio Abbiamo avuto qualche piccola difficoltà Il mio danno eroi È Piuttosto interessante Cioè Non mi posso Assolutamente lamentare Varian E io ovviamente Stiamo facendo la stessa partita Che sto facendo un pochino Più danni A eroi Ovviamente io posso farlo Perché sono un ranged Quindi Non ho problemi Intanto qui Gaslow è con le sue torrette Micidiali A dir poco Spaventose quelle torrette Quanto danno fanno Riescono Riescono a buttare giù Che stava Andando a fare Una cosa Giusta Stava andando a controllare Se stavamo facendo Qualche campetto Di mercenari Beh Però purtroppo Diciamo che ha Guardato un po' Con troppa intensità Potremmo dire Ok Qui abbiamo Tassadar Che Magari cominciamo a colpire Con la nostra ultimate Cerchiamo di non farlo Sfuggire troppo Perché È loro supporto E già sappiamo La priorità Che in qualche modo Sta provando a sovvivere Qui sono Oh mio dio Ma ho pochissimi HP qui Adesso sono nei guai Perché ecco L'opv di Ragnaros Gli sto girando Un attimo in tondo Ok Posso utilizzare anche l'alternet Ma non voglio andare Vicino al suo range Perché rischierei Soltanto di farmi uccidere In questo momento Adesso Sto andando a prendere Un attimo il tributo Giaina ha provato D'utilizzare un ultimate Per immobilizzare In effetti C'è riuscita A immobilizzare Varian Ha davvero pochi HP Però non riuscirà A fare altro Direi che adesso Devo tornare in base Magari prendo questo globe Vediamo un pochino Ehm Direi che andremo Verso mid A questo punto Rischiamocela un pochino Dai Non è il momento Di fare il boss Adesso Mettiamo a livello 20 Cammino sconfinato Che in pratica Ci permetterà di Ricaricare direttamente Le due cariche Che abbiamo Tra l'altro Sono dimenticato di dirlo Che abbiamo due cariche Nella nostra ultimate Ci permetterà di ricaricare Direttamente Entrambe Le nostre cariche Perché solitamente Si ricaricano A una a uno Quando Ne usiamo una Invece in questo caso È un po' come Le bombe di Zaria Con la missione Che in pratica Ricaricherà Tutte le cariche In un colpo solo Oh mamma mia L'altimente di Ragnarors Qui ci metterà Un pochino In difficoltà Qui c'è Varian E purtroppo Sono stato rallentato Ulteriormente Ho utilizzato la mia W Ma non ci sono riuscito Purtroppo Ad Allontanarmi Abbastanza Purtroppo La Varian È difficile scappare E Diciamo che Questa è stata Una cosa Un pochino Andata male Come potete vedere Comunque Lunara soffre Assai Contro questi personaggi Che possono Letteralmente Raggiungerla E poi farla A pezzettini In davvero poco tempo C'è soprattutto Varian è un esempio Più che ottimo Ok Chen qui Sta facendo La cosa giusta Volendo in effetti Può affrontare Tranquillamente Sia Jaina Che Tassadar Però Purtroppo qui Varian e Tralla Hanno fatto un bel po' di danni E qui vediamo Questo Gazzlove Che non ho idea Di che cosa Caspita Stia facendo Cioè Onestamente Non ha un gran Che di senso Vattene Mi facendo Ecco Adesso Gazzlove Praticamente Ci muore Ecco Esatto Cioè Per cercare Di fare Un boss Più che discutibile Però Ok Eeeh Vabbè Cose che possono Succedere Onestamente Cioè Cose che possono Succedere Però vabbè Non è una cosa Così grave Cioè Ci hanno soltanto Recuperato i tre livelli Però Adesso voglio un attimo Controllare Voglio mandare il fuoco Fatuo Perché è un po' Più veloce di me E vediamo un po' Che non ci sia Trall Appunto Trall lì sotto Quindi probabilmente Non stanno facendo il boss Ok Adesso lo mandiamo invece Verso Il boss Della squadra Avversaria Vediamo un pochino Cosa stanno combinando Anche perché I nostri avversari Sono estremamente Pressati Certo Oh cavolo Ok Se la sta rischiando Un bel po' Io onestamente Non voglio andare Lì però Ok No Non voglio andare Assolutamente lì I nostri avversari Stanno facendo il boss Lasciamo il fuoco Fatuo Lì vicino Vediamo un pochino La situazione Esattamente com'è Ok Purtroppo si sono accorti La mia presenza Sanno che sono qui Li sto guardando Tipo Sto aspettando il momento Giusto per colpire Come si suol dire E ragazzi Non lo so Vogliamo contestare Sto coso Oppure glielo vogliamo Lasciare a gratis Lì tra il ciao Arrivederci Utilizzo la mia W Posso rallentarla Tranquillamente Però non posso fare altro Cioè mi faccio solamente Ammazzare Sto aspettando un attimo I miei compagni di squadra Che intanto Hanno preso Il boss di bot Quindi diciamo che Questo boss Andrà diretto Al nexus E Per quanto mi riguarda La scelta migliore Qui sarebbe andare Direttamente con quel boss E finire la partita Invece di andare qui A farsi ammazzare Però Eh sapete ragazzi Quando mai io ascolto Il mio buonsenso Ormai lo doveste sapere Soprattutto per chi mi segue Da un bel pezzo Eh sapete cosa Voglio usare L'ultimate su Jaina Perché per niente Mi porta via Da tutta quella situazione E ciao Quindi diciamo Che l'ultimate di Lunara Come potete vedere La posso utilizzare Molto facilmente Per le mamme Da queste situazioni Super scomode In effetti E qui adesso Voglio un attimo Aiutare il nostro Gazzlover Perché in effetti Possiamo farlo Utilizzo l'ultimate Su Ragnaros E riuscirò anche A finirlo Quindi diciamo che In questo modo Abbiamo un po' Concluso Questa partita A questo punto Perché i nostri avversari Non potranno difendersi Allora tra l'altro Magari ci prova Però lo posso anche lasciare Morire col veleno Ma è arrivato Chen Chen E ha completato L'opera Quel povero Tassadar Sta facendo L'impossibile Per far sopravviere Il Nexus E in effetti Potrebbe anche farci L'attenzione Voglio vedermela Un attimo A questa parte Anche se verrai Immobilizzato dal boss E probabilmente Anche ucciso dai minion Se non sta attento Però volevo guardare Un attimo Questo Tassadar All'opera Nesta entera Che ha fatto davvero Una cosa Ottima Però Purtroppo Nonostante il suo Ottimo tentativo Siamo riusciti A concludere La partita Gigi Sol Ragazzi Gigi Ok Mi sento abbastanza fortunato Perché Diciamo che ho il tempo Solamente Di fare questa partita Sono riuscito anche A prendermi Queste MVP Che non mi aspettavo Non mi sento Di aver giocato Proprio benissimo Però In generale Questa era Lunara Super mega fastidiosa Bisogna davvero Contare moltissimo Sul posizionamento Perché proprio Ci soffre un bel po' Soffre un bel po' Contro quelli Che possono chiudere Distanze come Varian Che Erigan Tra le stesso Se riesce a prenderla Perché la sua velocità D'attacco Non è proprio Tra le più veloci Però Come potete vedere Non è sicuramente Una cosa che Le fa perdere danni Possiamo dire Tranquillamente così Ovviamente ci sono Altre build Soprattutto Ottimo lavoro Ti hanno ucciso tre volte Nella partita La media di giocatore A livello A livello A livello Vantaggio Sleale A livello 16 Lancia di legno Stellare A livello 20 Cammino Sconfinato Ora Magari vi dico anche il perché Ho scelto questa abilità Cioè questo primo talento Cioè Tassina naturale rivela i nemici per la durata del suo effetto Allora Ho scelto questo talento Perché è un po' come per Tracer Se ci pensate È molto fastidioso Quando magari c'è quel target Che non riusciamo a vedere Perché entra magari nella nebbia Oppure entra in un cespuglio E magari Ci impedisce di dargli Quell'ultimo attack necessario Per farlo secco Cioè E poi È anche piuttosto Bruttivo anche Come cosa Cioè è bellissimo Perché Da un certo punto Vista vedi Quello tizio Col mezzo HP Che crede di essersi salvato E poi il veleno lo uccide È sicuramente molto soddisfacente Ovviamente poi Gli altri talenti Non sono male Su certi punti di vista Cioè ad esempio La nostra W qui Può restituire anche Mana fino a un massimo di 40 Quindi magari possiamo Utilizzare un bocciolo Su una Su un'ondata di minion E poi possiamo utilizzare La nostra W per recuperare mana Però onestamente Non ho mai avuto problemi Di mana Con Lunara Sinceramente A livello 4 Diciamo che ci sono Un sacco di scelte Io preferisco O fuoco fatuo agile Per aumentare la sua velocità di movimento O altrimenti Fuoco fatuo astrale Che prende Dopo che questo fuoco fatuo Viene ucciso Praticamente rivela Un'intera zona E quindi questo può essere utile Soprattutto contro Gli stiltati Cioè o comunque contro Gli occultati come Nova Zeratul E poi qui È possibile anche andare per Un pochino di self sustain Per quanto riguarda Se è necessario Magari curarci un pochino Anche da soli Tramite la tossina Possiamo utilizzare Tossina ricostituente Che in pratica Quando è attiva Su un nemico Rigenera 18 di salute Al secondo ovviamente Questa cosa va a aumentare Ora ho provato un attimo Ad applicare La tossina Su più bersagli Per vedere se Sai magari aumenta un po' La cura Onestamente non ho notato Grandissimi incrementi Perché in effetti Altrimenti se ci fosse Una wave di minion Più Gli eroi nemici Penso che il sustain Sarebbe davvero esagerato In alcune mappe Come per esempio I campi di battaglia Eterni Possiamo mettere Questa Natura crudele Aumenta del 150% I danni Di tossina naturale Contro i bersagli Non eroici Diciamo che Lunara Infatti è molto utilizzata In quella mappa A mio parere Perché in effetti Il suo danno sugli immortali È davvero un micidiale Poi qui Vi parlavo di Uccisoia di gigante Ovviamente Ottimissimo Da utilizzare In combinazione Con il nostro talento A livello 7 Se ci sono anche Altri tank Soprattutto se ci sono tank Come può capitare A livello 16 Possiamo anche Aumentare la nostra Velocità di attacco O addirittura Aumentare l'effetto Dell'allentamento Della nostra W Che praticamente Possiamo anche Lasciarlo lì Diciamo che Per tutta la durata Della W Lasciamo Quel 50% Fisso Di rallentamento A livello 20 C'è anche la possibilità Di mettere A volizione della magia Quindi è possibile Anche fare un pochino Una cosa Tra virgolette Da supporto Perché in pratica Possiamo ridurre Del 50% A durata Degli effetti Debilitanti Su noi O su un alleato C'è E' una cosa Sicuramente Molto Molto Utile E' Soprattutto Le rimuove Scusate E' C'è anche Galoppo Che può essere utile Perché in pratica Possiamo aumentare La nostra velocità Di movimento Dell'80% Per 6 secondi E questo è sicuramente Micidiale Perché ci può permettere Ad esempio Di uscire da alcune situazioni Piuttosto bruttine Però onestamente Io Per l'ultimate Che ho scelto Preferisco Questo qui Che ci permette Di saltare anche Sui nostri alleati Se è necessario Ovviamente Anche la seconda Ultimate Può essere piuttosto utile E soprattutto Quando magari Ci sono Delle possibilità Di wombo combo Perché I rovi Praticamente Colpiscono In una linea retta E colpiscono Tutti i nemici E però Onestamente Se ad esempio Vi ritrovate Contro Ad esempio Un'atternente Morales Che è la cosa Che molti sottovalutano Usare questa Ultimate Può essere Estremamente utile Come ho fatto io Ad esempio Per andare a inseguire Magari quel Tassadar Che era un bersaglio Chiave Se vogliamo dire così Perché sappiamo già Che i supporti Sono importanti Da abbattere Comunque Bene ragazzi Spero che questa guida Vi sia stata utile Se avete qualche dubbio Lasciate un commento Qui sotto E spero anche Che lasciate un like E per il momento Direi che da XE Viene tutto E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao